Franco, è proprio a te che stavo citofonando. E non è così, ma tuo padre è vivo ancora. Che cosa è successo che urlava così forte? È stato solo un incubo, non la di grave. Una storia atrocemente vera. Purtroppo la stanza dei miei non si può aprire adesso. Per Coco, il primo mostro d'Italia. Dal 25 maggio in esclusiva su RaiPlay. Molto più di quanto immagini. Grazie.